Poi, questo robottino la taglia Riusci a venire a Gianni York Questo è il robot che fa la pizza automatica L'ordinata, non c'è il pizzaiolo Fanno tutto i robot Sono proprio curioso di vedere come avviene questo processo fantastico Vedete, tutto robotizzato Ora ci mette anche il sugo Stupendo Vedete come lo gira? Questo è il futuro Addio pizzaioli Dove è andata la pizza? Non so che sta facendo adesso La sta già cuocendo? Voilà Che ti sembra? Pazzesco, tutto robotizzato Dall'inizio alla fine Eccola, sto scendo adesso Ci ho messo altri ingredienti La prende da là E poi me la ficca Direttamente nel forno Wow Stupendo E lì vedete nel forno la cuoce Pazzesco, tutto è robotizzato Non c'è una sola persona che lavora a fare la pizza E non c'è tutto Viene acquistato Trovando che non ci sono neanche le casse Bisogna acquistare qua tutto Mamma mia Che ti sembra? Pazzesco No, e c'è anche uno chef Chi è lui Graffagnino Aspettiamo per vedere quando arriverà Il robot Non c'è una sola persona che la vuole Allora, mentre la fa questa La pizza l'abbiamo pagata 9 euro e 50 Ecco Ecco Adesso vi tira la nostra pizza E la mette qua Poi Questo bobottino la taglia Stupendo Adesso che succede? La chiuderà Chiude la taglia Immagino la chiuda Sa anche chiudere il cartone Pazzesco Trovando molto No E ora dove è appare? Qua? Non lo so No, là vedi La dice Stiamo aspettando Eccola qua Comun' Si apre da solo? Poi bisogna scannerizzare lo scontrino E ci apre la pizza Voila Oddio mio Grazie